è partita l'ultima prova della mattina primato del meeting team Veneto di Frigo Scaldaferro Guidolin e Carli uno trentatré cinquantacinque notato nell'edizione duemila e quattordici del meeting era combattuta in centro vasca vediamo la situazione nella prima frazione per il cambio al comando la formazione della Leo Sport sul team Veneto ventitré settantadue ventitré ottantanove poi il Noale ventiquattro e ventidue a metà cara la Leo Sport va al comando con quarantatré centesimi di vantaggio sul team Veneto il Noale segue a novantatré centesimi di secondo vediamo il terzo cambio con la Leo Sport il team Veneto e lo Sport in club Noale invariate le posizioni siamo con l'attacco al primato della manifestazione lo ricordiamo del team Veneto uno trentatré e cinquantacinque Leo Sport che ha il giovane Thomas Ceccon in fassione finale Alberto Carli Gabriele Carli per il team Veneto andiamo a vedere il touch per la Leo Sport uno trentatré e cinquantassette a due centesimi dal primato che resta al team Veneto team Veneto che è secondo uno trentacinque e quindici Noale alla terza posizione uno trentacinque e trentatré dovrebbe essere questa la classifica definitiva grazie a tutti